17 casette prefabbricate, 6 servizi igienici con bagni e docce. Vengono garantiti un passo al giorno e l'assistenza sanitaria. Lo stello per 80 lavoratori stagionali è sorto qui in Contrada Palazzo all'ingresso nord di Cassibile, frazione di Siracusa, dove fino a poco tempo fa i braccianti agricoli stagionali si accampavano in una baraccopoli. Lo stello è un progetto pilota in Sicilia, nato dalla collaborazione della Prefettura, Comune e Regione con i fondi del Ministero dell'Interno e si era gestito dalla Croce Rossa e l'impresa sociale Passwork. Cassibile è una realtà di integrazione, già ci sono qui immigrati di seconda e terza generazione, quindi lo meritavano i residenti di Cassibile e lo meritavano i lavoratori stagionali. È previsto anche il trasporto per i lavoratori stagionali con regolare permesso di soggiorno, spesso vittime dei caporali. Si dà accoglienza ai lavoratori spesso sfruttati. Tutti conosciamo bene il fenomeno del caporalato. Gli diamo un'accoglienza dignitosa, tra l'altro la Regione interverrà per una vigilanza H24 della struttura con mediatori sociali e culturali proprio per l'orientamento e la presa in carico dei lavoratori. Il villaggio è sorto in un'area del Comune. Un'area di protezione civile che potrà servire tutta la provincia di Siracusa, ma soprattutto diamo dignità a delle persone che chiamano migranti stagionali, ma sono dei lavoratori.